Nella sezione dati generali del quadro dettaglio stima è possibile definire i dati generali della stima ed in particolare la tipologia della stima da redigere, giudizio di stima, stima sommaria o stima analitica e le metodologie di stima utilizzabili, confronto diretto, market comparison approach, capitalizzazione del reddito, valore di costruzione. A seconda della tipologia scelta gli argomenti presenti nel quadro immobili varieranno e di conseguenza anche i contenuti della relazione di stima saranno diversi. Anche le metodologie di stima selezionabili varieranno in base alla tipologia prescelta. In caso ad esempio di stima analitica potranno essere utilizzate anche diverse metodologie contemporaneamente, permettendo in tal modo un'ulteriore verifica sul risultato finale. È possibile scegliere se inserire nella relazione di perizia il verbale di giuramento del professionista incaricato, correlativa data di giuramento e sede del tribunale. Il testo del verbale di giuramento è inserito automaticamente all'interno della relazione. I dati del professionista potranno essere inseriti direttamente o prelevati dalla tabella professionisti presente nel menu strumenti nella sezione tabelle di sistema. Potrà essere inclusa nella relazione la descrizione di valutazione ed anche la dichiarazione di conformità alla norma UNI 11.612 del 2015. I dati relativi all'incarico come la data dell'incarico, la finalità, il possibile divieto di pubblicazione completa o parziale della relazione redatta ed eventuali note ad uso interno. Completano la sezione dati generali.